Nel 2021 ho comprato una casa con 50.000 euro, l'ho rivenduta a 114.000, guadagnandoci e togliendo 216.000 euro di debiti a una famiglia. Come ho fatto? Questa famiglia non riusciva più a pagare il mutuo da anni e stava per perdere la casa in asta. Il problema è che quando una casa viene venduta in asta, chi perde la casa nella maggior parte dei casi resta con i debiti. E in questo caso sarebbero rimasti con 180.000 euro di debiti. Con l'operazione che ho fatto io invece, che si chiama saldo e stralcio con rinuncia agli atti, sono riuscito a comprare la casa prima che andasse in asta e a chiudere completamente il debito della famiglia. La cosa incredibile è che non ho usato i miei soldi per comprarla ma mi sono fatto finanziare dagli investitori. Quindi ci ho guadagnato io, ci ho guadagnato la famiglia, ci hanno guadagnato gli investitori e sembra incredibile ma ci ha guadagnato anche il creditore. Ok, vuoi sapere com'è possibile tutto ciò? E vuoi sapere anche quanto ho guadagnato? Trovi la risposta nel primo commento.